La partita sulle tasse si gioca su più fronti alla luce dell'incontro in regione promosso dal vicepresidente dell'Aggiunta regionale Giovanni Lolli. Il sindaco Biondi parla di un percorso da portare avanti individuato anche dopo l'incontro con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Si è individuato un percorso anche all'esito dell'incontro che c'è stato con il sottosegretario Giorgetti e in particolar modo in riferimento all'applicazione del temporary framework quindi con il de minimis a 500.000 euro. L'accordo è di un differimento ulteriore dei termini per le attività di recupero delle agevolazioni da parte del commissario e la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, dottoressa Calabro e dall'altro un'interpretazione autentica del DPCM con cui si avviano le attività di recupero tenendo presente che la decorrenza dei termini delle agevolazioni è quella della pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di stabilità del 2012 e quindi al 14 novembre 2011 e non al 1 gennaio 2012 cosa che consentirebbe appunto di applicare il de minimis a 500.000 euro perché fino al 31 dicembre 2011 era vigente il temporary framework. Quindi si spingerà con il governo su questo punto? Sì, questo è un primo tassello naturalmente che non è l'ultimo perché poi bisogna aprire l'interlocuzione sul fatto che il mezzo milione di euro rappresenti una franchigia e quindi non sia un limite oltre il quale si paga tutto e poi cercheremo anche di capire se effettivamente c'è la volontà di un'interlocuzione più approfondita con l'Europa per rimettere in discussione il fatto che si tratti di aiuti di Stato. Però questo è un percorso molto più lungo e molto di là da venire e su cui va verificata anche la volontà del governo naturalmente. Vi preoccupa il fatto che la proroga sia di 60 giorni, c'è di mezzo l'estate, i lavori fermi del Parlamento ad agosto? Si è ragionato sul fatto che ci siano fra le altre cose anche una proroga, un differimento dei termini al 31-12-2018 delle attività del Commissario proprio per dare tempo al Parlamento di strutturare la norma più precisa possibile che non entri in contraddizione con la normativa europea e non ci faccia ricominciare il percorso da capo. La mia posizione è nota sull'argomento, io sono contrario al fatto che si siano giudicati aiuti di Stato, le agevolazioni connesse al sismo anche perché si è trattato di un abbattimento dei contributi che non sono uguali in tutta Europa, le tasse in tutta Europa non si pagano allo stesso modo in tutte le regioni. Quindi come ho già detto più volte dovremmo ritenere che alcune nazioni europee che sono molto aggressive sotto il punto di vista della tassazione per attrarre investimenti capitali e aziende sul proprio territorio quotidianamente violano la norma comunitaria sugli aiuti di Stato.